altro parola nel mezzo Cristiano Ronaldo che cosa ha fatto che gol di Ronaldo strepitose ci sono gli applausi dello stadio sentite stiamo in silenzio perché sta applaudendo tutto lo stadio adesso andiamo a rivedere il replay qui Chiellini preoccupato di Ronaldo dietro di sé anticipa Buffon, Ronaldo scarica e poi qui vediamo il suo gol è un gol incredibile grazie